Nel 2015 ci sono state 1.172 famiglie che hanno avuto questa tragedia, qui parlava lei poc'anzi, e questo numero è salito rispetto al 2014 di una percentuale significativa, siamo saliti del 16% rispetto alle morti bianche del 2014, questo 16% possiamo distinguere in due grandi settori, il 18% per quanto riguarda gli infortuni mortali sul posto di lavoro e il 12% di aumento rispetto a quelli in itinere, infatti quelli mortali in occasione del lavoro sono stati 878 nel 2015, gennaio e dicembre 2015, mentre nel 2014 sono stati 746, se andiamo a vedere quelli in itinere nel 2015, gennaio e dicembre 294 decessi contro i 263 nel 2014, quindi ecco perché l'apertura è stata strage, nel senso che i morti sono stati tanti e sono aumentati purtroppo, quindi è una tragedia che si consuma tutti i giorni, perché se facciamo poi un conto freddo vuol dire più di 3 al giorno, quindi vuol dire che a livello nazionale ogni giorno si mette sul piatto della bilancia di avere 3, l'anno scorso almeno è stato così, 3 infortuni mortali. Caspita! E dietro ovviamente è una morte sul lavoro, c'è dietro una famiglia, c'è dietro, sono dentro figli, moglie o contrario, perché di questi 1.162 morti ci sono state 100 morti di donne, questo nel 2015.